Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser finalmente si sono sposati dopo sette anni di fidanzamento. Il matrimonio da sogno si è svolto in una villa in Toscana, con tanti invitati che hanno sfoggiato look chic per l'occasione. La sposa ha indossato un abito a sirena, disegnato appositamente per lei dall'atelier M, con un lungo velo ricamato con una dedica speciale. Anche il secondo abito, sempre dello stesso designer, ha confermato l'eleganza di Cecilia. La sorella Belen ha optato per un abito beige, mentre lo sposo Ignazio Moser e gli altri uomini presenti hanno scelto abiti classici scuri. I bambini presenti hanno conquistato con i loro look, in particolare la piccola Luna Mar. La mamma di Ignazio, Carla Merz, e la signora Veronica Cozzani, hanno sfoggiato abiti eleganti che hanno ricevuto un voto alto. Tra gli invitati, Chiara Giuffrida ha fatto colpo con il suo abito blu elettrico, mentre Tony F ha ricevuto un voto basso per il suo look beige. In generale, l'atmosfera del matrimonio è stata di grande eleganza e stile, con tutti gli ospiti ne ho contribuito a rendere la giornata ancora più speciale.